Il Paradiso delle Signore, puntata 7.02, Ludovica nelle mani il destino di Marcello. Prosegue l'appuntamento con la SOP Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 alle 16.05. Le anticipazioni delle nuove puntate vedono il grande volo di Marcello, pronto a entrare sul serio nella Milano bene. Per riuscirci ha sofferto, studiato ed è stato umiliato. Eppure ora è riuscito persino a conquistare l'algida Contessa Adelaide. Chi si è lasciata andare tra le sue forti braccia? Sarà proprio Adelaide a spronarlo a fare un altro passo importante, ora che ha i fondi necessari può diventare socio del circolo. Il club più ambito dagli imprenditori e dalla gente altolocata milanese. Ludovica non crede ai suoi occhi, Marcello ha vinto, spezzando ogni pregiudizio e critica. Adesso aspetta solo a lei dare l'ultima parola. Nel frattempo Gloria ed Ezio sono sempre più vicini e stanno cercando personale per l'azienda di Colombo. Entrambi sanno che stanno correndo un bel rischio, con Umberto pronto a rovinarli per il solo gusto della vendetta. Le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore vedono Ezio alla ricerca del personale per l'impresa che ha avviato. Il luogo fisico c'è, ma manca la mano d'opera. Colombo si è licenziato sui due piedi dalla ditta Palmieri sapendo bene a cosa andava incontro. Ma ha deciso di rischiare lo stesso e inseguire il suo sogno. Ora Gloria lo aiuterà anche nella ricerca del personale, ma Umberto è sul piede di guerra. Pronto a ostacolare entrambi. Nelle mire vendicative di Guarnieri non ci sono solo Ezio e Gloria. Barbieri ha ricevuto un cocente 2 di picche da Ludovica, che ora fa coppia fissa con Ferdinando. Nello stesso tempo Brancia ha capito che tra Marcello e Adelaide c'è del tenero. E ne è rimasta scottata. Questo potrebbe influire sul voto che determinerà l'entrata o meno di Barbieri al circolo. Che dipende dal voto della vicepresidentessa. Ci si chiede se Ludovica agirà con onesta o se si prenderà la sua vendetta. Purtroppo Barbieri non sa che ha due avvoltoi alle spalle, trattasi di Umberto e Ferdinando. Chi saputo della novità considerano la possibile entrata di Marcello al circolo uno scandalo. Faranno di tutto per evitarlo. Nella puntata Il paradiso delle signore che andrà in onda il 7 febbraio, Conti soffrirà molto per la distanza imposta da Matilde per via delle continue intromissioni e minacce velate da parte di Tancredi. Come se non bastasse, Conti è in forte crisi, non trova la giusta ispirazione per la nuova campagna pubblicitaria. Medita così di lasciare il ruolo da pubblicitario, ma lo farà davvero. Non resta che aspettare le nuove puntate per scoprirlo. Miei caratterul meu de fierb, Că baie ploaie vând, niciun curcubeu, Daci că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta, Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Adunca-ți toate visele într-o geantă și pleacă, Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva, Închide ochii-s poți imagina că lumea e a ta și-n plus, Pot să sari sus, 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 sus. Aimei, 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 n-au avut hava Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus pot eu să sar. Acum că nu, nu, nu mai am nimic de ascuns, Pot să mă liv tot mai sunt.